salve a tutti benvenuti alla nostra rubrica sorsi di cultura per valorizzare i tesori di terra del vescovado oggi parleremo dell'oratorio campestre di santa croce a torre dei roveri sulle colline che sovrastano il borgo di torre dei roveri in località colle dei pasta nei pressi della tenuta frizzoni su un bel prato con altici pressi si trova l'oratorio campestre di santa croce l'antica chiesa è documentata sin dal diciassettesimo secolo dedicata a san cristoforo ma anche detta di santa croce fu proprietà prima della nobile famiglia pasta e poi passò ai frizzoni proprietaria della tenuta a vinicola posta poco sotto l'edificio l'edificio si presenta anticipato da un piccolo portico con colonne in aria pavimento e parapetto in pietra la semplice facciata ha un portale e finestre quadrate anch'esse in aria sopra il portale è presente un bel alto rilievo raffigurante san cristoforo in preghiera l'interno navata unica presenta un abside rettangolare allungato dove ha frescato uno splendido ciclo pittorico ottimamente conservato sovrappresentate le storie di san cristoforo il ciclo e opera del noto pittore bergamasco pietro baskenis attivo insieme alla sua famiglia originaria della valle averara tra la metà del quindicesimo e la seconda metà del diciassettesimo secolo sulla parete di fondo è affrescata la madonna col bambino e santi seduta su un trono di nuvole da sinistra a destra si riconoscono san francesco d'assisi san cristoforo san pietro e sant'andrea bello il particolare della vergine che è nell'atto di appoggiare delicatamente sulle spalle di cristoforo il proprio figlio del resto cristoforo significa appunto portatore di cristo sulla volta al centro entra una raffinata cornice in stucco e lo vale con la gloria di san cristoforo con angeli musicanti recanti simboli del martirio la corona e la palma ai lati sulla volta vi sono le storie della vita di san cristoforo con le figure di san nicola san carlo borromeo santa caterina d'alessandria e santa maria maddalena nelle storie del santo la cui iconografia è di un gigante si riconoscono la predica il processo il martirio tramite colatura di piombo fuso e la decapitazione il processo in particolare si noti sulla destra la raffigurazione di una finestrella entro cui vi sono san cristoforo e due donne sono niceta e aquilina due emissari dell'imperatore che avrebbero dovuto corromperlo e farlo ritornare all'adorazione degli dei pagani ebbene furono esse stesse da lui convertite potrete rivedere questo contributo e tutti gli altri sul nostro sito www.terredelvescovado.it www.terredelvescovado.it